Grazie a tutti. Allora, io quando penso allo spazio, in realtà il mio pensiero va come io ho vissuto questi eventi dello spazio di quale adesso viviamo. E io effettivamente, vedete che troviamo questo qui, io quando hanno lanciato lo Sputnik non solo c'ero, cosa che invece per molti di voi non è roba sentita, ma addirittura questo... Ecco, io l'ho sentita, io c'ero e l'ho sentita. Questo è il didditto che ha fatto il... Allora, io c'ero e non solo l'ho sentito, ma io ho capito subito, vi devo dire la verità, sono più intelligente di tanti altri che c'erano in giro, perché ho capito subito che era un grande evento. Non perché hanno mandato una pallina per 60 cm di diametro, pesava quasi niente, 83 kg, quindi una roba da poco, ma ho capito che cosa voleva dire per il mondo. In realtà, quando l'hanno lanciato Korolev, ha telefonato a Khrushchev e gli ha detto abbiamo lanciato il primo satellite artificiale della Terra. Khrushchev ha detto bene, bene, è andato a dormire, perché era meno intelligente di me, perché lui ha capito che cosa voleva dire la mattina dopo, quando ha letto i giornali americani, perché gli americani, che si consideravano invulnerabili perché le testate nucleari non riuscivano a raggiungere l'America, non c'era gettata sufficiente per arrivare fino là, anche se noi in Italia le avevamo vicinissime, perché in Yugoslavia c'erano quelle pronte per arrivare il più lontano possibile, ma noi non arrivavano in America, ma un satellite dall'alto poteva calare e fare qualunque cosa. Da quel momento è incominciata la guerra, proprio la guerra tecnologica, da quel momento. In realtà, con che cosa è stato lanciato? Guardate, è una meraviglia, sembra le moderne cattedrali, guardate che è un'opera d'arte. Ecco, questo è stato il grande lanciatore, Semi Orca, il Settimino, perché è R7, ma ha detto Settimino, come una mamma che ha il settimino, non ha il piccolino più piccolo della famiglia. Ora, guardate, sto Semi Orca era 280 tonnellate e ha messo in orbita il peso che vi ho fatto vedere prima. Questo vi dice che noi a lanciare non eravamo bravi allora, perché vi ha speso tutta quella massa per lanciare una cosa da niente, e non siamo bravi neanche adesso, perché anche ancora adesso perdiamo una quantità di tempo per quello. Allora, subito dopo, ecco, questo è una cosa che ho soltanto io, questi sono i festeggiamenti che hanno fatto a Mosca quando hanno lanciato, subito dopo, che avevano lanciato lo Sputnik. Come vedete, vi faccio vedere una cosa, guardate bene, a questo punto lo guardate lo Sputnik case, guardate quella che viene adesso. Allora, quattro antenne che restano al di fuori dell'ogiva. Noi eravamo lontani dal momento in cui si potevano fare le antenne telescopiche. Le antenne erano tutte dispiegate e le hanno appoggiate all'esterno, proprio direttamente sul lanciatore. Gli è andata bene perché l'avessimo fatto noi, non ci funzionava così. Vabbè, allora, Khrushchev, che era diventato intelligente nel frattempo, gli ha detto, ma se abbiamo fatto tanta bella figura lanciando un palloncino, insomma, una baletta come quella lì che abbiamo lanciato, chissà se mandiamo una persona viva, un essere umano, no? E ha detto, mandiamo. Allora, Korolev ha avuto paura, io dico sempre che solo un politico poteva fare una cosa, chiedere una cosa del genere, perché è molto diverso mandare un piccolo satellite come quello rispetto invece a mandare un essere umano, un essere vivente. Però Korolev ha avuto paura a dire di no a Khrushchev. Perché? Perché lui aveva già stato nelle miniere d'oro di Colima e quindi ci aveva quasi lasciato la pelle. Quindi a dire no ha detto, qui finisco male un'altra volta. E allora che cosa ha fatto? Non ha mandato un astronauta, ma ha mandato un cane. Due mesi dopo è partita laica, che è stata mandata a morire, perché non c'era la possibilità di tornare indietro. Perché questa è un'altra cosa. Guardate, io ho conosciuto davvero tanti astronauti, tantissimi. Non ce n'è uno che mi abbia detto, ah io sono contento di morire nello spazio. Tutti vogliono tornare indietro. Invece la laica, poverina, non gliel'hanno chiesto, l'ha mandata a morire. Allora, la laica era un cane, che secondo i russi è un animale intelligente, un cane femmina, che non solo secondo i russi, ma secondo tutti è più intelligente del cane maschio, e poi era un cane bastardo, cioè di quelli presi a Mosca, proprio per strada, non l'avevano tirato su per strada, ma era svelta. E tanto per farvi vedere quanto è intelligente, confrontate lo sguardo della laica con lo sguardo di questo astronauta e dite, c'è dei due, chi è dei due il più intelligente? Insomma, non si vede subito. Allora, a questo punto, e questo è il primo dei grandi eventi che io mi ricordo, il lancio dello sputting. Subito dopo, che cosa è venuto? L'uomo nello spazio. L'uomo purtroppo, donne non le volevano proprio, perché la condizione, quando hanno fatto la selezione, era che fossero piloti dell'Air Force, e quindi donne non ce n'erano. Pensate che hanno incominciato a istruirli, ad addestrarli, alla fine del 59, e nell'ottobre del 61, Gagarin ha volato. Questo vi dice come sapevano farle cose in fretta, del resto il Baikonur, il cosmodrome di Baikonur, l'hanno fatto in un anno, quindi insomma sapevano farle cose. Anche noi, tranne che con qualche autostrada, ma se no anche noi siamo abbastanza svelti. Allora, ne hanno selezionato 20, non avevano avuto tantissime domande, ma ne hanno selezionato 20. Di questi, 8 non hanno mai volato. E la cosa più buffa è che i 3 non hanno volato, li hanno cacciati via, perché hanno fatto una rissa in una stazione, qui ho scritto ferroviaria, ma era della metropolitana. La morale doveva essere salva, non si poteva fare. Insomma, 12 hanno poi volato, comunque loro ne hanno isolato praticamente 2, che erano Gagarin e Titov, quello che poi... facevano le cose con un certo... con una certa nonchalanza. Pensate che un anno prima che volasse Gagarin è successo quello che si chiama la catastrofe di Nedelin. Nedelin era un ingegnere rampante, di quelli che volevano far carriera a tutti i costi, e quindi metteva sotto la sua gente, comandava 150 persone, ingegneri, 150 ingegneri della sua squadra. E a un certo punto dovevano lanciare quello che probabilmente era Marsnik 3, uno che doveva andare su Marte, dovevano lanciarlo. Allora non c'erano i computer. Il sistema... non c'era. Il sistema di azionamento, di accensione delle varie parti, era una sorta di sequenziatore, un albero a camme, che a mano a mano, che girava, innestava un certo comando. Hanno cercato di accenderlo, e tutti gli hanno nascosto, e non è partito. Non si è acceso. Nedelin che cosa ha fatto? Ha chiamato tutta la sua gente, si sono messi attaccati al lanciatore, a questo punto il lanciatore è partito, ha spaccato i vetri a 50 chilometri di distanza. Quelli che vedete che corrono lì dentro, è gente... Io ho visto le fotografie dal Veno, è gente con gli abiti in fiamme che stava morendo. Hanno praticamente, tra morti e feriti, gravissimi morti dopo, ci sono state 500 persone. Questo vi dice che andavano veramente in maniera un po' garibaldina. Però questo rende ancora più apprezzabile l'attività che ha fatto il Gagarin, il quale invece... Qui faccio vedere cos'è successo il giorno prima che partisse. Il giorno prima lui era... Korolev gli stava proprio dietro, era suo padre, sua madre, solo coccolava tutto. Il giorno prima Korolev è andato in crisi. E allora alle 5 del pomeriggio è andato a dormire. Non è proprio vero, perché le 5 di Baikonur in realtà erano le 5 di Mosca. In Russia tutti avevano l'ora di Mosca, quindi probabilmente erano le 8 o le 9, c'erano 3 ore di differenza. Comunque lui è andato a dormire perché era disperato. Questa casetta io sono andata a vederla, non ci abiterei. Ecco, invece vi faccio vedere quello che c'è di sotto, com'era il lanciatore, com'era messo. Vedete che dietro c'è un lago, un bacino d'acqua, e nel momento dell'accensione l'acqua viene fatta passare al di sotto del lanciatore per abbattere i gas di scarico. Intanto per evitare di danneggiare il lanciatore che da questi potrebbe essere in qualche maniera danneggiato, ma anche per disperderli perché è un grande pericolo. Allora, niente, qui non è importante. Parte, parte Gagarin, il volo, io vi faccio vedere la traiettoria che ha fatto, parte dove c'è scritto start, che vale anche per noi la partenza, arriva al tramonto, zapad, zinca, quello lì è il tramonto, cioè entra in ombra, passa dietro il mondo, arriviamo dall'altra parte, vede l'alba, dove c'è scritto sinca, vede l'alba, a questo punto accende i motori, dopo un po' accende i motori per rientrare, per riuscire ad atterrare. C'è anche scritto a un certo punto modulo, modulo vuol dire quando si è distaccato, si è distaccata dal modulo la capsula che doveva entrare a terra. E a questo punto è arrivato a terra. Vedete che c'è una piccola differenza in longitudine, fra quando è arrivato a terra e quando è partito, era passata un'ora e mezza e la terra era girata, quindi questo qui lo sentiamo proprio come una dimostrazione. Cos'è successo? Vediamo, aspetta un momento, provo, provo se no torno indietro. Ecco, non erano sicuramente convinti che ce l'avrebbe fatta. Hanno detto se qualcosa va male, diamogli almeno da mangiare e da bere per una decina di giorni, ma non erano convinti che ce la facessero. Ha fatto per bene tutte le sue operazioni, ma quando è arrivato a sganciarsi dalla capsula, a sganciare la capsula dal modulo, è successa una cosa tremenda. Le tre bretelle che legano la capsula al modulo, delle tre bretelle, due si sono rotte e la terza non si è rotta. Quindi la capsula ha incominciato a girare vorticosamente, perdendo ovviamente completamente l'assetto. Ma d'altra parte, cosa avrebbe potuto fare il povero disgraziato? Perché c'era un sistema a mano per poter guidare un po' l'assetto. Avrebbe dovuto aprire un cassettino, tirar fuori una busta, togliere dalla busta un foglio, leggere il foglio con le istruzioni e a questo punto manovrare. Era già morto. E allora che cosa ha fatto? Il giovane intelligente ha detto, la capsula è sferica, comunque cada, va sempre bene, perché ha simmetria sferica. Aspettiamo. Ha aspettato, l'attrito dell'atmosfera ha bruciato la stringa, la bretella, e quindi lui ce l'ha fatta ad arrivare. Gagarin non è atterrato nella capsula. A otto chilometri si è fatto lanciare, cioè si è aperto lo sportello dietro, che aveva dietro alla sua slitta, la slitta l'ha aiettato fuori, si è aperto il paracadute ed è sceso col paracadute. Non si è mai saputo, non si doveva dire. Tutti hanno detto che era sceso nella capsula, perché per la legge internazionale del momento la missione spaziale doveva partire nel veicolo e rientrare nel veicolo. L'hanno detto dopo, ma ha fatto bene perché sennò si rompeva tutto. Allora, quando lui è arrivato, chi ha incontrato? Ha incontrato una contadina con la sua nipotina, come la mia che c'è qua. Una contadina, la quale quando ha visto arrivare questo tizio, tutta rossa, casco bianco, e il paracadute è dietro, via, se ne è data gambe velocissime. E invece lui ha detto una frase bellissima, sono un russo come voi, sentite l'orgoglio, no? Vengo disceso dallo spazio e devo trovare un telefono per chiamare Mosca, perché allora il telefonino non c'era e è andato a piedi fino al paese più vicino. Ecco, questo secondo me è stato il grandissimo evento che ha segnato l'altro punto, subito dopo, poco dopo, è possibile, qualche anno dopo, due anni dopo. Hanno mandato la Valentina Terescova per ragioni puramente politiche. Lei ha fatto un brutto vol veramente perché c'è stato un disguido, quindi ha vomitato per tre giorni dentro, non vi dico che vita, però guardate, 500 astronauti, 560 astronauti, 40, di 40 paesi, 50 astronauti. Ecco, io dico, 560 dovrebbero essere 280, ecco, mettiamo l'energia, no? No, non è vero, diciamo siamo in 40, in 50, paziente da cosa. Ecco, il terzo passo importantissimo, e io c'ero, è stato l'uomo sulla Luna, anche qui tre uomini, di cui uno antipatico, ma fa niente, tre uomini sulla Luna. Si poteva andare in maniera diversa, c'erano tre opzioni, ma in realtà per ragioni di massa l'unica possibile è stata quella che poi è stata adottata, che era il rendezvous in orbita lunare. arrivare tutti con l'intero veicolo nell'orbita lunare, sganciare quello che doveva scendere, fare una manovra tremenda di rivoltamento nello spazio, sganciare quello che doveva scendere sulla Luna, ripartire, c'è anche quello lì, i razzi sono come gli zorfanelli, non siete mica sicuri che ripartano, e quindi è proprio pericolo ripartire e tornare indietro. Allora, il programma Apollo è stato figlio di tre presidenti. Eisenhower, dopo la guerra, prima che lo cacciassero via, ha raccolto un gruppo di esperti e ha fatto questa domanda. Con le tecnologie che abbiamo, siamo in grado di mandare un equipaggio sulla Luna? La cosa era importante perché fino allora avevamo preso tante di quelle legnate dai russi che se non facevano qualche cosa di buono avrebbero perso completamente la stima degli altri. E la risposta è stata sì, è solo una questione di soldi. Dopodiché Eisenhower era via, è morto anche lui la cosa. È arrivato Kennedy e ha detto, we shall go to the moon. Non perché è facile, ma perché è solo, questo vale per voi ragazzi, ma vale per tutti. È solo nelle cose difficili che noi capiamo quanto valiamo e che dimostriamo le nostre capacità. E di fatti, però anche il Kennedy nel 60, poveretto, l'hanno sparato. Ed è arrivato Nixon, il quale era un pessimista. Lui era convinto che la missione sarebbe andata male. E questo è il necrologio che aveva già preparato. Cioè è venuto fuori adesso dagli archivi. Il destino ha voluto che uomini che sono andati sulla Luna per esplorare in pace, restino sulla Luna per esplorare in pace. Questi uomini impavidi sanno che non c'è speranza per il loro recupero. È bellissimo perché gli ha detto, siete lì, state lì, morite, non c'è niente da fare. Invece noi siamo partiti il 16 di luglio. Siamo arrivati il 20, il 24 siamo tornati indietro e ci è andata benissimo. Qui se parte, ecco parte, anche questa è una cosa che ho solo io, si vede Armstrong, non si vede Armstrong, si vede Armstrong che manovra. Perché quando sono arrivati alla Luna, la componente orizzontale della trasversa, della velocità, era molto più alta di quella che doveva essere. Ragion per cui avrebbero mancato il mare della tranquillità dove dovevano scendere. Invece lui ha preso in mano i comandi e sceso esattamente dove volevano e qui a questo punto si dovrebbe vedere un sensore di terra che dice, eccolo qua, che dice una sonda, no? Siamo vicino a terra e a questo punto sono arrivati. Qui si vede la fotografia di Armstrong che fotografa Aldrin, perché a dire il vero quando sulla tuta non si capiva niente chi era il comandante. Da quel momento in poi hanno deciso che al comandante gli mettevano una striscia rossa, così lo distinguevano dagli altri. Qui invece è proprio Armstrong che fotografa Aldrin, perché i due si litigavano, non andavano d'accordo. A me Aldrin non piace, vi dico io. Anche perché gli ho detto di venire a una conferenza, a fare la conferenza a Milano e mi ha detto quanto mi date? Eh no, adesso abbiamo pazienza qua. E quindi io non... Tra di fatto che Aldrin ce l'aveva con Armstrong, perché voleva essere il primo a scendere. In realtà invece è stato il secondo a scendere, quindi tutti ricordano Armstrong e non ricordano lui. Vedete la bandiera? La bandiera non sventola. Sventola, sulla Luna non c'è atmosfera, non c'è vento, quindi sta benissimo come temperatura. Quando si vede, c'è una fotografia in cui si vede la bandiera che sventola, perché nella ripartenza del razzo i gas espulsi l'hanno fatta muovere. Quindi è chiaro, ci siamo andati, non c'è problema. Ecco, ma qui si vede la maglia, prima con Titov. Allora il mio amico era Titov, il quale è andato secondo. L'ho preso che era un po' più vecchietto. È stato il secondo astronauta, però lui sosteneva che era stato il primo, perché lui ha fatto 17 orbite e ha sofferto il mal di spazio. E invece Gagari non l'ha neanche fatto in tempo, poi ci è andato al pauro. Poi invece qui c'è sempre la maglia con la Valentina Terescova, con cui io sono veramente in buoni rapporti. Guardate quelli dietro come sono lì, ammirati del fatto che noi andiamo così d'accordo, ci raccontiamo un po' le nostre cose. E poi qui invece sono io, sono io con Charles Duke, e quello che ha fatto nel pollo 16 ha fatto il capitombolo. Cioè lui ha fatto un capitombolo davanti a milioni di persone, perché è inciampato. E mi raccontava proprio questo, a dire il vero, io quello che apprezzavo molto è anche il fatto che lui, era lì con sua moglie, eravamo in estetica, era lì con sua moglie, ed è uno dei pochissimi che conosco degli americani che non ha divorziato. E quindi si vede che aveva una stoppa ben dura. Ecco, arrivati a questo punto, io avevo messo a punto la mia esperienza, cioè siamo negli anni, negli anni, si è passati gli anni 60, diciamo che, cosa mi aspettavo dallo spazio? La maglia, cosa si aspettava dallo spazio? Io mi aspettavo le grandi imprese. Quello che non avevo capito era che dallo spazio invece in realtà avremmo ricavato tante opportunità. E quello che non l'avevo capito proprio, io pensavo che per l'attività spaziale ci fossero le esplorazioni, quelle cose lì, come pensavo, nella mia ignoranza, che i computer servissero per fare i conti, per fare i calcoli, invece no, i computer servono per tutt'altro, sono più ordinatori che non computer. Io lì credevo che non... E invece no. Satelliti, allora, prima di tutto i satelliti scientifici, sono partiti immediatamente. Questa è proprio la mia esperienza perché li ho visti nascere. E poi tutte le altre applicazioni, le telecomunicazioni, i satelliti meteorologici, il terribilevamento e la navigazione. Allora, quei satelliti meteorologici non vi dico niente perché noi dipendiamo dagli altri. Noi come Italia non abbiamo... abbiamo partecipato, partecipiamo alle cose, però noi prendiamo le carte che ci danno gli altri, le previsioni, spesso sbagliate che ci danno gli altri e quindi di quelle non vi dico niente. Ma dei satelliti scientifici, sì, perché i satelliti scientifici lavorano, vero? Lavorano, cercano di leggere quello che le galassie, le stelle lontane, così via, ci mandano, le informazioni che ci mandano, che ce le mandano sotto forma di onde elettromagnetiche. e quindi a seconda che ci mandino, noi usiamo microonde, infrarosso, ultravioletto, radiazione, radiazione gamma, ecco che noi abbiamo delle informazioni. Allora, lì è partito subito, guardate che l'ho scritto in rosso, 1962. La NASA ha fatto partire, nel 62, non eravate nati, nel 62, ha fatto partire questo programma, che era il programma Oso, Orbiting Solar, l'ho osservato, il quale era un bellissimo satellite, fatto da due parti, c'era una parte sotto che era rotante, che garantiva la stabilità, una parte sopra invece che aveva le cene solari e in più aveva gli esperimenti, gli strumenti che dovevano fare l'innovazione e che controrotava rispetto al precedente in maniera tale che lui manteneva il suo assetto, la vela, manteneva l'assetto che voleva e quello sotto invece girava con... Ecco, allora, era bello, cosa bello? Noi, noi in Italia, nel 64, anche qui, non ce l'avate, abbiamo lanciato San Marco, il San Marco è stato tutto un programma che è andato avanti poi fino agli anni 80, merito però di Broglio, io direi che non era tanto un merito italiano di una persona, però Broglio era italiano, in realtà Broglio, resti qui tra di noi, ha avuto tutti questi aiuti dagli americani, perché sua madre occupava una posizione di rilievo presso il Vaticano, quindi è stato il Vaticano che ha aiutato nei suoi rapporti con gli Stati Uniti a poter avere queste cose. Bene, il San Marco noi l'abbiamo lanciato, siamo il terzo paese al mondo che ha lanciato dopo gli Stati Uniti e dopo gli Russi e dopo gli Stati Uniti. Qualche volta li dirghiamo con i francesi perché loro dicono che è stato loro il terzo ma non è vero, una cosa. Allora, abbiamo fatto tutta questa cosa e poi l'Italia ha lavorato tanto in questo ambito, vero? Che abbiamo lavorato tantissimo, ecco la cosa. Allora, qui per esempio è un satellite americano, il SAS, per l'astronomia a raggi X, il primo satellite di astronomia a radiazione X e qui lo vedete, mi piace farvelo vedere perché si vede Bruno Rossi che ha mancato il Nobel per poco, ecco, un altro Nobel che c'è stato uscito, vabbè, pazienza, e invece però c'è insieme la Marjorie che è stata la prima donna che si è laureata in ingegneria all'università di Washington, quindi effettivamente mi faceva piacere ricordarlo. Ecco, direi anche che è la prima volta che gli americani si fidavano a far lanciare un loro satellite da qualcun altro e ce l'abbiamo lanciato da San Marco e abbiamo fatto un bel lavoro. Dopodiché a bellissimo nostro Beppo Sachs che in realtà è un satellite cosparso di sangue perché non avete idea quante teste sono cadute dal punto di vista sia politico che all'interno di quella... Stava nascendo l'Agenzia Spaziale Italiana però all'interno di quella... Perché? Perché i costi erano lievitati tantissimo e quindi c'era una lite fra i soldi da destinare alla ricerca di base in Asia, soldi destinati alla ricerca di base e soldi da destinare ai satelliti. Guerriero diceva che questi soldi e gli esperimenti fatti col Sachs erano pur sempre scientifici gli altri dicevano insomma ci sono litigati abbiamo fatto un bel lavoro l'ultimo che vi faccio vedere è Agile dove sei? Agile è Agile perché è un bellissimo questo qui andava sui gamma invece raggi gamma è un bellissimo satellite che anche questo ha avuto i suoi guai vero? Guardate i nostri guai in generale sono guai politici c'è stato un momento e anche questo qui è esperienza mia in cui in tre anni abbiamo cambiato quattro governi tutte le volte che cambiava il governo cambiavano le persone che si mettevano quindi cambiavano i presidenti cambiavano le cose è stato un momento di grande confusion meglio adesso bene questo è stato lanciato e funziona benissimo si diceva che gli americani ne avrebbero lanciato immediatamente uno più bravo quello più potente non è stato vero non è stato vero quindi anche loro e quindi per quello che riguarda la scienza l'Italia è a posto gode una posizione di rispetto e di considerazione perché qui vi ho fatto vedere un piccolo assaggio ma in realtà noi abbiamo messo esperimenti scientifici su satelliti scientifici in quantità in particolare Planck l'ultimo che abbiamo mandato dove ce n'è uno nostro bene parliamo invece delle telecomunicazioni perché è una cosa che mi fa piangere allora le telecomunicazioni partono nel 63 63 gli americani lanciano due satelliti Syncon uno dei quali abortisce un lancio abortisce invece il secondo era fatto per per parli telefonate mi sembra che avesse se non vado errato 12 canali telefonici oppure un canale televisivo cioè poter ecco questo vi da un'idea di cos'era allora un satellite però la cosa ha funzionato benissimo perché con quello lì ha fatto una telefonata fra due capi di stato e poi invece con quello successivo del 64 abbiamo visto via satellite le olimpiadi di Tokyo noi noi l'Italia ha fatto una cosa spettacolare Sirio Sirio noi abbiamo lanciato un satellite da Milano no noi abbiamo lanciato da Milano l'abbiamo fatto in gran parte a Milano abbiamo lanciato un satellite perché i colleghi di telecomunicazioni sono del Politecnico sono veramente bravissimi abbiamo lanciato questo satellite che doveva esplorare le alte frequenze 12-18 GHz perché siccome soffrono molto dal punto di vista della meteorologia l'abbiamo fatto l'abbiamo lanciato l'abbiamo lasciato lì poco dopo diciamo nel 91 abbiamo fatto Italsat che è anche questo un satellite fantastico nel quale esploravamo questa volta avevamo 12.000 canali rispetto a quelli che vi dicevo prima e esplorava i 20-30 GHz andavamo avanti con le frequenze abbiamo soprattutto era una sorta di centralina a bordo non venivano le comunicazioni non venivano smistate a terra direttamente a bordo e questo era già un satellite pre-commerciale a quel punto non abbiamo più fatto niente la Francia è andata avanti gli altri sono andati avanti ma in particolare la Francia in questo momento il mercato delle telecomunicazioni non è italiano e non c'è c'è da arrabbiarsi dite la verità potiamo adesso l'ultima volta due anni infatti nel 13 abbiamo partecipato a un altro satellite molto bello europeo l'AlfaSat e abbiamo messo due transponders vedete che lo scritto in rosso a nome Aldo Paraboni che è stato un nostro collega del Politecnico che è mancato e che gli abbiamo dati insomma noi siamo bravissimi a prendere le occasioni e lasciarci di scappare dopodiché per quello che riguarda il televelevamento invece noi abbiamo una costellazione Cosmo SkyMed che funziona benissimo quattro satelliti di cui due sono già molto malmessi adesso bisogna vi chiederanno un po' di soldi per metterne altri due e dopodiché guardate la sera a me l'ha fatto vedere una sera una miscella il fler cioè siccome le celle solari di questi satelliti sono come illuminati sono riflettenti c'è un momento in cui loro guardano il sole e riflettono verso di voi e quindi si vede passare questo ma soprattutto guardate le fotografie che facciamo questa è a matrice lo vedete no? si vedono le case allora io mi domando abbiamo in mano uno strumento così potente come quello del tele rilevamento che riusciamo a guardare in tasca le persone com'è che non riusciamo a combattere l'abusivismo edilizio basterebbe sovrapporre una di queste di queste immagini a quella che è la mappa delle cose e si vede subito che la fanno no signore non si fa questa è volontà questa è mancanza di volontà di cose dopodiché per Galileo noi non facciamo Galileo ma partecipiamo Galileo è europeo partecipiamo stiamo facendo in particolare in particolare noi facciamo mettiamo a bordo gli orologi gli orologi atomici noi mettiamo i maser quelli a microonde e invece gli inglesi mettono il rubidio in realtà in questo momento i maser non vanno tanto bene però speriamo che possano andare bene io lo dico guardate questo vale per i giovani la navigazione fatta con i satelliti è un problema che riguarda la relatività noi riusciamo ad avere informazioni abbastanza precise col gps e le avremo precisissime col Galileo perché correggiamo l'attività dei nostri satelliti tenendo conto della relatività siccome il satellite si muove rispetto alla stazione di terra e quindi perde 7 nanosecondi al giorno siccome il satellite sta a un livello di gravità che è minore di quello della terra e con questo guadagna 45 nanosecondi la differenza sono 38 nanosecondi che noi dobbiamo continuamente correggere ecco che quindi non è che la relatività sembra niente serve anche per poter leggere sul gps qualche cosa di buono con questo qui vi ho fatto vedere tutto allora l'Italia è messa bene anche nell'esplorazione planetaria che io ho visto fin dall'inizio e devo dire che su questo c'è stato anche il consenso da parte sia dei politici che di quelli dell'asi in molti casi c'è stato quel consenso l'esplorazione è Marte perché cosa volete gli altri sono praticamente impraticabili come pianeti e quindi si va su Marte il problema di Marte è visualizzato da questo in rosso perché vedete vai avanti ancora no eccolo qua perché la Terra fa una rivoluzione completa mentre Marte ne fa metà e quindi ci vogliono due anni per riallineare Marte Terra e Sole e quindi se voi volete tornare a casa dovete aspettare due anni appresa poco attorno ai due anni per poterci rientrare quindi questo qui è il problema il viaggio su Marte è lungo la prima missione russa a Marte Mars A è del 1960 ragazzi erano bravi vi dico erano bravissimi allora quali sono i perché andare su Marte perché su Marte c'è l'acqua anzi io dico sempre guarda questa è acqua è acqua in un cratere io dico sempre l'acqua c'è i sali in abbondanza i spaghetti li portiamo noi non c'è nessuna ragione nessuna ragione per non andare su Marte allora questo sono fotografie queste questo è il Mars e Mars Orbiter che ha preso questa è una serie di fotografie questi non vi sembrano due fiumi che convergono e che entrano a fare un fiume solo cioè nel passato su Marte c'è stato un altro mondo un altro tipo di vita e certamente Marte ma l'altra cosa che ci porta a Marte è sta famosa meteorite che hanno trovato nella quale sembra che si vedano cioè si vedono poi dopo sono piccoli piccoli che si vedono dei fossili che vengono da Marte siamo sicuri che la meteorite è marziana su questo non c'è dubbio però ecco quello che colpisce è che noi abbiamo addirittura prove che questi qui erano viventi lo vedete questo giallino che c'è in basso è un'alterazione delle rocce dovute ai fetti organici il che vuol dire che erano il gabinetto insomma è come c'è una cosa e l'altra però abbiamo visto anche questi allora Marte è un pianeta maledetto 43 missioni 27 fallimenti facciamo quasi 28 allora ecco siamo partiti prestissimo ma io vi voglio parlare del primo atterraggio morbido su Marte russo fatto con questa bestia qui il Mars 3 che come vedete sopra in alto portava una sfera una sfera che poi è stata mandata nell'atmosfera di Marte lui è arrivato a Marte in realtà ha durato 14 secondi perché ha avuto l'accortezza di arrivare nel pieno di una tempesta di sabbia quindi a questo punto non è più riuscito a trasmettermi a fare niente ma io vi faccio vedere una cosa che ho sul tampino questa è una alimentazione a terra di quella che è la capsula allora guardate come era fatta una capsula ha 4 petali si aprono esce un oggetto che serve a misurare le caratteristiche della terra ma ci aveva anche attaccata non questo quello che vedete dopo una zampettina e quindi questa è l'attività che viene a un certo punto mette fuori il curaggio perché con un'antenna che è un sensore di condizioni eterologiche perché su Marte si voleva vedere se succedono tira fuori l'altra si apre l'altro petalo anche qui questo qui aveva anche un raspettino una cosa per poter portare via qualche cosa e adesso guardate bene nell'angolo destro lo vedete cosa avevano inventato un baracchino fatto come i cavalli ad onzolo dei bambini no? che li fanno in questa maniera il quale con un filo per Marte è ingenuo è ingenuo però erano bravi diciamo la verità dopo da allora ne abbiamo fatti un po' di tutti i colori questi qui americani e questo sempre fotografia non c'è trucco non c'è inganno ecco qui si vede Sejuller quello del MastFinder che si muove siamo su Marte si sta muovendo è fotografato dal veicolo che si è su Marte questa è una panoramica presa dal veicolo che è atterrato e che vede in un angolo dovrebbe esserci un cerchietto rosso vede in un angolo cioè ha inventato le panoramiche eccolo lì ecco vedete lì si vede Sejuller che sta lavorando quindi erano diventati anche molto bravi nel panoramico ecco la cosa bella che hanno fatto il miracolo che hanno fatto gli americani è Curiosity Curiosity è una cosa spettacolare perché è quasi una tonnellata sono 900 kg di veicolo che è sceso ma non è solo quello nel fatto vedete come era sistemato in questo veicolo che scende a parte le coperture superiore e inferiore c'è dentro quello che è sotto quello che è stiacciato sotto eccolo lì si vede il 4 che è il veicolo che poi scenderà su Marte Curiosity proprio il veicolo che scenderà il lander ma sopra c'è un sistema una culla con delle anche qui con delle bretelle che se lo porta in giro perché gli americani hanno fatto questo ve lo devo commentare hanno fatto una cosa facciamolo vedere e poi torniamo hanno fatto una cosa spettacolare hanno fatto volare questo oggetto nell'atmosfera marziana utilizzando i criteri dell'aeronautica cioè il trimaggio hanno usato quelli e così facendo l'hanno governato fino a quando l'hanno fatto scendere dove volevano loro torno indietro un attimo per farvi vedere la complessità di questo veicolo che come vedete è complessissimo ma guardate per piacere bene quello che ho scritto must cam che è la sinistra la telecamera che è montata sul braccio di sinistra e poi invece qui in basso che c'è uno strumento che si chiama Mali che è una serie di lenti che hanno messo su un braccio che possono andare in giro e vedere da vicino gli oggetti che si vogliono vedere con molta precisione quello che vi faccio vedere adesso è proprio l'alieno cioè questo è l'autoritratto Curiosity si è fotografato utilizzando must cam e utilizzando quel Mali che dicevo prima ha fatto tutta una serie di fotografie e noi e con queste siamo io sono convinta che se c'erano gli alieni su Marte prendevano questo per un marziano però in realtà in realtà è una cosa bellissima noi abbiamo fatto Mars Express quando dico noi dico l'Europa Mars Express che dal punto di vista degli italiani è stato un grande successo noi avevamo messo un come si dice un radar che era Marsis e non ce lo lasciavano dispiegare perché dicevano che era pericoloso poteva creare dei problemi agli esperimenti che c'erano su in realtà l'abbiamo dispiegato siamo andati a vedere noi siamo in grado di leggere l'acqua la presenza dell'acqua però c'era anche qualche altra cosa che doveva scendere su Marte che però sentite allora il lanciatore che ha mandato questo oggetto su Marte si chiamava Fregat non è non è convincente l'oggetto che è sceso si chiama Beagle che insomma anche qui abbiate pazienza cioè le premesse non erano proprio il massimo sa di fatto che questo l'abbiamo l'hanno lasciato andare è tutto degli inglesi è fatto tutto degli inglesi l'abbiamo lasciato andare e a questo punto non abbiamo più saputo niente adesso dicono che hanno visto da qualche parte il paracadute insomma era meglio se era lui che ci rispondeva dopo di che poco dopo cioè qualche mese fa abbiamo lanciato ExoMars ExoMars quelli della comunicazione in questo caso hanno fatto un errore gravissimo perché ExoMars no no ExoMars era fatto scusa è vero ExoMars è fatto di due parti quello che sta attorno l'orbiter che sta attorno a Marte e che sta cercando assolutamente di trovare metano metano grazie metano all'interno dell'atmosfera di Marte perché metano sarebbe un indice di vita esistente vorrebbe dire che su Marte c'è ancora vita e lo stiamo cercando e poi c'era anche un lander che doveva scendere però era fatto da due parti i comunicatori hanno detto l'importante è lander l'importante è lander il lander è andato perché l'abbiamo fatto gli abbiamo dato anche un bel nome poverino di una gloria per Milano e per Torino no signore alla fine è arrivato doveva fare tutta questa discesa e doveva a un chilometro e uno spegnere a un chilometro spegnere i razzi e adagiarsi gentilmente superterra in realtà l'ha fatto molto prima a 40 chilometri è arrivato giù si è rotto tutto e quindi anche questo non l'abbiamo fatto vabbè pazienza vedremo la prossima volta di farlo meglio adesso vado via velocissima per dirvi qualcosa sulla mia cometa perché se è vero che l'Italia è stata brava a fare tante cose io vi ho fatto vedere nella mia esperienza quelle che ho proprio visto fare noi con la cometa abbiamo avuto proprio un successo noi proprio come Italia perché? perché siamo andati a vedere le comete allora le comete vale la pena di studiarle perché sono quello che ci resta del sistema solare primordiale facevano parte della nube protoplanetaria e quindi sono rimaste al freddo sono rimaste nel silenzio e hanno conservato queste caratteristiche ogni tanto per ragioni gravitazionali qualcuna si muove arriva fino da noi ci porta queste informazioni e poi torna al freddo allora le comete sono belle perché hanno la coda hanno due code almeno una di ioni e una di polveri per cui quella di ioni che è senza massa va dritta quella di polveri che ha la massa sono piccoli granuli seguono le leggi gravitazionali difatti la vedete che quella di polveri si inclina ecco qualche volta ce ne hanno tre questa qui che era bellissima era la Joy che era una no no questa qui era la Ayutake vabbè qualcosa non mi ricordo più il nome bene Yakutake ecco come si è venuta in mente questa qui ne aveva tre perché una era una coda di sodio e quindi si vedeva anche questa che era bellissima allora come vi ho detto le comete vengono dal freddo o dalla cintura di Kuiper o dalla nube di Hort che sono intanto molto distanti fra di loro guardate in questo disegno la cintura di Kuiper praticamente è vicino a Nettuno è dell'Odi Nettuno la nube di Hort guardate dove è messa è 10 alla 4 unità astronomiche quindi siamo ben lontani ma io ho voluto scriverlo perché sia il signor Kuiper che il signor Hort olandesi tutte e due hanno scritto hanno trovato queste informazioni hanno realizzato questa teoria attorno al 1950 quindi delle comete non si sapeva niente quello che abbiamo fatto l'abbiamo detto praticamente da pochissimo tempo ecco allora gli americani avevano fatto una bella un bel satellite che si chiamava ISEE International Sun Earth Explorer che doveva guardare la zona compresa fra la Terra e il Sole cosa che per noi è importantissima perché regola la nostra meteorologia il nostro tempo caldo freddo insomma la nostra salute dipende da questa zona e abbiamo messo lì questo satellite che stava in quell'orbita attorno a L1 va bene in quest'orbita che come vedete è molto ampia e molto ovale mettetela così l'abbiamo messo lì aspetto 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 un anno due così via quelli non vengono giù mai noi li facciamo troppo buoni satelliti assolutamente ragion per cui a un certo punto abbiamo deciso di abbatterlo ma Belbruno che era interessato alle orbite ha detto perché non adoperiamo queste ultime poco di combustibile che abbiamo per fargli fare un'altra orbita abbiamo acceso i motori guardate che orbita li abbiamo fatto fare siamo partiti dall'orbita rotonda che c'è lì attorno a L1 o quello ovale e poi abbiamo fatto tutte queste orbite e quindi l'abbiamo fatto rivivere il fatto è che in questo passaggio siamo passati attraverso la coda della Giacobini-Zinner e quindi per la prima volta abbiamo intercettato la coda di una cometa poi l'Europa che quando fa le cose le fa bene e devo dirlo guarda è proprio così ha deciso di andare a vedere si lo so ho quasi finito ha deciso di andare a vedere la cometa di Halley cometa che prende il nome da Halley non perché lui l'abbia scoperta lui non l'ha scoperta lo deve aver visto da bambino ma perché avendo studiato bene la teoria della gravitazione sapeva che doveva ritornare e lui ha detto tornerà nel 1758 e lui era già morto dal 1742 allora signori fare una previsione che si avvererà quando siete già morti non è difficile no? perché è caso mai è caso mai sbagliato però la previsione c'era è arrivato il 58 febbraio marzo giugno novembre della cometa neanche l'ombra la notte di Natale del 1758 un astronomo dilettante ha visto la cometa e quindi Halley ha avuto ragione e l'abbiamo chiamata la cometa di Halley della quale abbiamo fatto la fotografia del nucleo che è questo come vedete ma non è questo questo qui è una finta la cosa da notare è che noi l'abbiamo intercettata siamo passati vicino alla cometa a 245 mila chilometri all'ora quindi abbiamo fatto proprio zam come un treno veloce che passa il nucleo della cometa è questo nero freddo un diamante nero che si muove nello spazio fino ad arrivare vicino al sole che ne illumina la coda allora a questo punto l'Europa gli americani sono andati avanti hanno fatto anche danni non c'è problema ma a questo punto i russi no non avevano interesse per le comete no non gli piacevano allora gli americani gli europei hanno deciso l'Europa ha deciso di fare la missione Rosetta cos'è che contraddistingue la missione Rosetta dalle altre che sono state fatte vi ho detto prima i 245 mila chilometri all'ora noi si voleva non intercettare la cometa in questo modo ma arrivare alla cometa con la sua stessa velocità che è una cosa complicatissima per fare la quale ecco vabbè qui non si vede per fare la quale abbiamo dovuto fare questo viaggio di quasi 11 anni per poter fare in modo che arrivando alla cometa avesse esattamente la stessa velocità è stato un viaggio complicatissimo ma soprattutto e qui ringrazio quelli che hanno fatto le celle solare abbiamo fatto questi pannelli solari le ali mi abbiamo dato le ali 64 metri quadri è il doppio di questa sala secondo me 64 metri quadri di celle solare e le vedete qui quando si montano guardate le gambe di questi ometti che stanno sotto e vi rendete conto di quanto è alto il pannello quindi è veramente una meraviglia abbiamo fatto un capolavoro perché si voleva alimentarla con la luce del sole non si voleva adoperare gli RTG come invece fanno sia l'americano che i russi tutti quelli che abbiamo fatto fare questo giro è partita dalla Terra abbiamo fatto un primo flyby della Terra un flyby di Marte bellissimo anche perché l'abbiamo fatto in eclisse era il momento in cui i nostri pannelli solari non erano assolati perché il sole era da un'altra parte allora uno dice come facciamo non possiamo neanche trasmettere le fotografie abbiamo preso uno strumento che c'era un parco americano che c'era e abbiamo adoperato le batterie e abbiamo fatto le fotografie con le batterie guardate da qua ci siamo fatti anche un selfie allora qui si vede il pannello solare sopra e sotto vedete Marte che abbiamo sfiorato a 250 km e siamo arrivati vicino alla cometa dopo aver fatto anche due anni e passa di ibernazione e guardate se non ci fossimo svegliati da ibernazione la missione era abortita è stato quello il punto più drammatico della cosa la cometa si chiama Churimo Grasimenko allora scoperta dalla Grasimenko che è questa signora che io ho conosciuto simpaticissima un po' grassa ma veramente simpaticissima veramente simpatica e lei credeva di aver scoperto di aver trovato una cometa che stavano cercando che era la Coma Sola ma poi è arrivato Klim ho conosciuto anche lui altro così una cosa ho conosciuto anche lui il quale ha fatto i conti per bene ha detto non è la Coma Sola è la cometa nuova e l'abbiamo chiamata Churimo Grasimenko e noi ci aspettavamo di trovare una cosa come questa la famosa palla di neve sporca una specie di fagiolo invece guardate cosa abbiamo trovato era brutta come il peccato mortale ma guardate più la guardavamo più si andava vicino e più ci sembrava brutta guardate le spaccature in mezzo e per di più ruota su se stessa fa due rotazioni al giorno praticamente una ogni 12 ore e io dico sempre che ci manca la corda e poi è una scaborsa altro che paperella una scaborsa e noi abbiamo fatto scendere sulla cometa un cilindro in file del quale io avevo la responsabilità delle celle solari ma io avevo anche la responsabilità di questo strumento che è stato costruito insieme a io avevo responsabilità e l'ho costruito Selex che è al Politecnico di Milano che è costituito da un trapano noi abbiamo trappanato tanto in fondo al trapano esce un tubicino che è quello che raccoglie il campione il trapano ritorna nella sua posizione depone il campione in uno di questi 26 fornetti dai quali poi dopo nei quali viene scaldato opportunamente ed è arrivato anche il mio trapano è arrivato sulla cometa e ci siamo distaccati c'è stato un momento in cui ci siamo distaccati dal veicolo madre padre quel che volete guardate quello che vi ho scritto è una cosa da sottolineare in questa vecchia perché eravamo all'inizio della della missione l'oggetto che scende si chiama Roland poi invece noi abbiamo chiamato file che vorrebbe dire Rosetta Lender ma siccome Roland è il francese di Orlando e Orlando le aveva prese come un materasso allora noi abbiamo detto per non saperne leggere né scrivere cambiamo il nome cambiamogli il nome e l'abbiamo chiamato file e noi siamo scesi in questo posto segnato con la crocetta con la crocetta bianca che era il famoso site G va bene dovevamo scendere scelto così fatto perché ci si arrivava in sette ore di discesa e soprattutto aveva il sole a 56 gradi che culminava a 56 gradi quindi era alto le celle solari potevano lavorare bene ecco queste sono fotografie guardate vedete il pannello solare che sta in alto sopra c'è il pannello solare questa è la fotografia che Lender ha fatto quando si è distaccato dall'orbiter cioè questa è la dimostrazione che si era distaccato non guardate in mezzo che ha un riflesso del sole si era distaccato questa invece è la fotografia del Lender fatta dall'orbiter e vedete che ha aperto le zampe che è la nostra preoccupazione perché se non apriva le zampe ci sarebbe rotto tutto questa è un'altra fotografia e questa non è una simulazione questa è una serie di fotografie che fanno vedere l'oggetto mano a mano che sta scendendo che si avvicina a terra e siamo scesi avete sentito il contatto ora in realtà è un imbroglio perché non essendoci atmosfera il contatto non si poteva sentire ma noi abbiamo convertito le vibrazioni in suono e quindi avete sentito l'oggetto che è sceso sulla cometa allora noi dovevamo scendere in quel posto lì così indicato e che era rappresentato da questo certietto rosso questa fotografia è stata fatta 5 minuti prima del momento in cui pensavamo che sarebbe disceso e vedete che all'interno del certietto rosso non c'è niente non ci siamo ancora questa è la fotografia fatta 5 minuti dopo quando pensavamo che fosse disceso e vedete che all'interno del cerchietto rosso c'è l'ombra del veicolo che è sceso questo invece è il punto nominale dove avremmo dovuto scendere quel punto verde all'interno del cerchietto rosso dovevamo scendere in quel punto verde allora eravamo a 500 e passa milioni di chilometri di distanza dal sole siamo arrivati con un errore di 100 metri e di un secondo voglio un applauso siamo in fondo siamo in fondo siamo in fondo siamo in fondo perché noi siamo scesi avremmo dovuto ancorarci a terra ma in realtà non ci siamo ancorati perché le ancore cioè gli arpioni non hanno funzionato l'arpione doveva sparare come l'arpione che va nella roccia no? voi avete un proiettile che entra nella roccia nel caso nostro nel ghiaccio entra nella roccia e si porta dietro una corda quando il proiettile si ferma voi cercate e voi tirate la corda le alette che ci sono sul proiettile gli impediscono di venire fuori e quindi avete la corda ancorata e dovevamo attaccarla alle zambe non ha funzionato perché non ha funzionato lo sparo cioè il combustibile che c'era dentro non ha funzionato io ci tengo a dirlo questo perché si sappia che non era nostro l'hanno fatto Max Planck Institute la signora Merkel questa che roba sua quindi l'ha fatto lei ecco abbiamo fatto un gran salto e guardate dove siamo andati a finire con niente siamo andati a Davido con niente avremmo potuto andare al di là della cometa e quindi perderla per di più la velocità con cui abbiamo rimbalzato era per 4 cm al secondo più bassa della velocità di fuga capite qua è stato un colpo di fortuna e lì abbiamo incominciato a lavorare noi abbiamo anche fotografato ma abbiamo preso poco abbiamo preso soltanto la zampa e di fatto questa che vedete è il riflesso delle mie delle mie celle perché non è il sole questo è il riflesso delle mie celle che sono illuminate dal sole e che battono sulla cosa l'avevamo perso fine era perso non lo si trovava più allora il 2 settembre del 2016 una mia amica dell'ESOC che è incaricata di guardare tutti i giorni incaricata di guardare tutti i giorni le fotografie che l'orbiter prendeva nella speranza di riuscire a vedere file aveva in mano questo pacco di fotografie la guardate così rapidamente poi le ha messe giù e ha detto al suo bambino che stava vedendo i cartoni animati andiamo a letto e il bambino ha detto no mamma ancora uno ancora uno sapete come fanno i bambini ancora uno facciamo ancora uno e lei ha detto va bene ancora un cartone animato ha ripreso in mano le fotografie e guardandola bene ha visto in quell'angolo là in fondo lo vedete il quadratino rosso ha detto ma là c'è qualcosa e di fatti ingrandito ecco che cosa ha visto ha visto file l'abbiamo ritrovato allora questa è una zampa no? la parte che vedete alta bianca è una delle zampe poi si vede il corpo di file messo in questa maniera ma soprattutto si vede quel puntino bianco a sinistra in alto che è la testa del mio strumento era là lo ha visto materialmente allora dopodiché abbiamo deciso di far finire anche l'orbiter l'abbiamo fatto scendere a mano a mano sulla cometa questa è l'ultima fotografia che ha preso a 6 metri di distanza quindi proprio era attaccato questo è il segnale che noi avevamo quello che ci diceva che l'orbiter funzionava era vivo e a un certo punto l'abbiamo spento e siamo arrivati in fondo allora io vi faccio vedere questo è fatto per i giovani ma anche per i meno giovani questa è una piccola parte del gruppo di persone che ha lavorato su file in mezzo ci siamo la Susan che ha quella irlandese che ha quel golfettino rosso e poi accanto ci sono io e siamo le due anziane tutti gli altri sono giovani ecco il futuro è vostro grazie 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 grazie